Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Oggi vi parlerò di Aquamail, un client email fatto davvero bene, ha molte funzionalità. Scopriamo l'insieme, ma dopo la intro. Eccoci qua davanti al telefono che ho in prova al momento, un Wiko UFIL Prime. Questa è la versione dell'applicazione gratuita, che però ha delle limitazioni. Ve le faccio vedere qua, poi passiamo all'altro dove ho la versione Premium, fornitemi gentilmente dallo sviluppatore. Nella versione Pro possiamo utilizzare più di due account. Possiamo usare l'identità di posta, quindi un alias, tipo un soprannome per quando si scrivono le mail. Non c'è nessuna firma promozionale in automatico, qua invece nella versione gratis dice inviato da Aquamail. E poi le notifiche push per l'email exchange ci sono soltanto nella versione Pro. Andando qua su acquisto vediamo che il prezzo dell'applicazione è di ben 5,49€. Un prezzo consistente che però alla fine del video vedremo se fa a caso vostro. Adesso cambiamo il telefono e vediamo la versione Pro. Eccoci qua invece su G4, questa è Aquamail, vedete l'icona è la stessa ma qua ho la versione Pro, infatti se guardate qua non abbiamo la voce a giorno. Ecco però spassiamo dalla gestione degli account perché è davvero molto interessante. Questa è la cartella smart di cui parleremo tra pochissimi invece andando su accanto possiamo inserire più accanto. Io adesso ne sto usando uno solo per praticità ma volendo se ne può inserire un'altra, vedete ci sono varie impostazioni. Per Gmail, Hotmail, Outlook ed Exchange ci sono tre voci separate, invece per tutti gli altri accanto dovete attivare la mano. Comunque vedete c'è Yahoo, AOL, Hotmail, Fastmail eccetera eccetera. Quindi c'è davvero tanta scelta. Una delle cose più interessanti è la possibilità di fare il backup online degli account. Possiamo fare il backup o in locale oppure su Dropbox, su OneDrive di Microsoft oppure Google Drive di Google. Vedete è comodo, si può fare il backup e poi si ripristina anche se che mette il telefono basta accedere al vostro account cloud. In automatico potete attivare queste impostazioni. Tra l'altro il backup c'è anche nella versione gratis quindi se avete giusto due account va benissimo anche questo. Se volete avere qualche funzionalità in più e account in più invece c'è la versione a pagamento che come vi ho detto costa 5 euro e qualcosa. Quindi non costa poco però abbiamo tante funzionalità interessanti. Passiamo alla visualizzazione delle email invece per vedere le funzionalità principali. Vedete questa qui posta in arrivo e vediamo le ultime che mi sono arrivate. Qua mostra le email che stiamo gestendo e possiamo aprire un email e anche vedere gli allegati. Qua invece ci dà delle istruzioni, non so come vedere l'email, comunque vedete che scorre fluida e non ci sono particolari impuntamenti. Possiamo anche rispondere oppure inoltrare a qualcuno perché ho appena resetato l'applicazione per fare il video. Io comunque non li mostrò sempre vedete a funzionare. Poi tra l'altro perché quando si scrive un email c'è anche una funzione molto comoda quella di programmare l'email. Ecco vedete adesso provo a mandarmi un email da sola e mettiamo un testo a caso. Vedete è anche un oggetto importantissimo mettere l'oggetto nell'email perché semplifica la vita di chi ne riceve molto. In questo modo si sa già l'argomento in questione. E poi invece di fare invia che sarebbe questo segnetto qua o salve in bozzo o inserisce allegato, possiamo fare invia più tardi e in questo modo ci mostra questa opzione di mandare tra un'ora, tra quattro ore, un giorno oppure altro. Possiamo personalizzare anche l'orario, vedete. Questo è il calendario per esempio se vogliamo mandarla domani che è 16 alle ore 10. Questa è l'ora e questi sono i minuti. E in questo modo l'abbiamo programmata in modo che la riceverò domani a quell'ora lì. Ovviamente il telefono deve essere connesso ma comunque alla fine se lo mettete sul vostro telefono principale non avrete particolari problemi. Adesso invece andiamo a vedere le impostazioni vere e proprie. Vedete poi c'è la casella smart che unisce più account e tra l'altro fa vedere un toto di mail per ogni account. In questo modo si fa più ordine oppure comunque possiamo cambiare quanti mail vedere in questa cartella smart. Poi abbiamo posta in entrata, qua in posizione di sistema per gestire gli account, vedete utile oppure poi possiamo impostare la scansione programmata, l'intervallo di controllo personalizzato, stabilisci il ritardo, quando l'applicazione è attiva essere sincronizzata o meno, solo se lo schermo è spento oppure quando è una modalità slip. Poi abbiamo le notifiche push, possono attivare in modo da ricevere le email istantaneamente, però consumano più batteria. Qua segnala come giornata al momento dell'eliminazione, vedete questi sono un po' invece sospetto, possiamo personalizzare il tema, vedete ci sono questi. Anche i caratteri di ogni scritta, poi archivi o dati, cartella legati e memorizzati nella cache, conferma e annulla. Qua abbiamo tante impostazioni, poi c'è la cartella smart come vi dicevo che si può personalizzare, per esempio quanto è durato nella cartella smart, per quanto è lasciare le email nella cartella smart. Poi qua varie impostazioni, per esempio il nome di chi invia l'email, poi elenco account che abbiamo queste impostazioni qua, espandi account. Poi volendo anche invece andiamo a vedere le notifiche che è interessante, possiamo anche nascondere il testo e possiamo anche scegliere se avere una notifica per tutti i messaggi da leggere o per nuovi arrivi. Con nuovi arrivi in questo modo c'è un po' più di privacy, perché dice quanti email da leggere e quante no. Vedete qua, proteggere privacy, sopprimi il suo oggetto e informazioni sul mutente, oppure il suono indifferente per ogni account, poi si possono anche scegliere delle ore dove non ricevere le notifiche o di meno, in base all'account. Poi il tema scuro è che per affaticare meno gli occhi o per consumare meno batteria sugli AMOLED. Poi abbiamo anche un widget per avere tutte le notifiche su Tokyo, poi scori col dito, abbiamo qualche gesture in più, insomma è un client che ha davvero molte funzionalità. Poi abbiamo anche la vista conversazione, vedete si possono unire in modo da avere un formato tipo chat, oppure unire messaggi arrivati e inviati. Poi possiamo anche gestire le notifiche per ogni account, vedete, premendo qua e andando su impostazioni speciali, applichiamo delle modifiche soltanto a questo account, quindi se vogliamo che questo account non riceve più, non invie più notifiche, possiamo configurarlo qua. Infatti mettiamo in impostazioni speciali, disattiviamo le notifiche e questo account non lo riceverà, oppure possiamo programmare in modo che di notte questo account non manda email e l'altro sì invece. Io ve lo consiglio perché ha davvero tante impostazioni, sì il prezzo è alto per la versione proprio rossa, magari avete meno esigenze, anche la versione è gratis, tanto comunque la maggior parte delle persone più di due account non ce l'hanno. Questo secondo me ve lo consiglio per chi ha dei account in più oltre quello Google, in questo caso è semplice, fate il login con il vostro account Google, poi fate il ripristino della cloud e avete tutti gli altri account. Io ringrazio ancora lo sviluppatore dell'applicazione per avermi fornito la versione Pro gratuitamente, vi ringrazio della visione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale che è importantissimo per portarvi sempre nuove recensioni, commentate e attivate le notifiche, seguitemi su Telegram e su Instagram dove sono i social dove sono più attivo, se volete anche aggiungermi agli amici su Facebook c'è l'account pubblico in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su mobile, fondamento, ciao!